Tra gli spettacoli più belli di Ferragosto, sicuramente quello di Cervarezza con tanti giochi d'acqua e giochi di fuoco. Acqua, fuoco, musica e luci sono gli elementi che hanno trasformato per una notte Cervarezza. Il paese dell'acqua, chiamato così grazie alle tante fontane, alle fonti solforose, alle storiche terme, ha ospitato uno spettacolo unico dove protagonista è stata appunto l'acqua. Accanto ad essa i colori, le note e soprattutto le fiamme. Grazie alla proloco della frazione di Busana, per il quinto anno consecutivo è andato in scena lo spettacolo fontane danzanti ed è stato un successo. Migliaia le persone che sono arrivate anche da fuori provincia per assistere a questi giochi di luci, zampilli e fuochi. Hanno occupato le sedie in platea, ma anche le graninate sull'erba e addirittura i posti in piedi, in molti armati di telecamere e macchina fotografica. Una partecipazione che ha stupito anche gli stessi organizzatori. Zampilli e spruzzi, vestiti di mille colori, hanno danzato per mezz'ora accompagnati da melodie classiche contemporanee, in un crescendo di emozioni sino all'arrivo del fuoco. Fiamme alte diversi metri si sono fuse a castelli di acqua, mentre i fuochi d'artificio hanno concluso a sorpresa lo spettacolo. Spettacolo straordinario, canzone straordinaria, adesso la pubblicità.